Sono 39 le misure cautelari personali che sono state eseguite questa mattina ma in seguito ad oltre due anni di scrupolose indagini dai militari dei comandi provinciali di Campobasso dei carabinieri della Guardia di Finanza. L'attività di indagine è stata coordinata dalla procura distrettuale antimafia che ha dato vita all'operazione che è stata chiamata Piazza Pulita e che ha rappresentato un percorso davvero importante per via dell'interesse criminale di tre organizzazioni operanti con metodo di mafia nel territorio molisano e più precisamente con centro a Boiano ma nell'ambito di collegamenti con il capoluogo di regione e con altri luoghi della Campania. Ne parliamo con il colonnello Emanuele Gaeta che dirige il comando provinciale dei carabinieri di Campobasso. Un'operazione molto importante perché si vanno a sradicare tre sodalizi criminali di notevole importanza. Dico notevole importanza perché questi sodalizi criminali avevano preso il controllo del territorio di Boiano e in parte di Campobasso per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti e non solo. Visto che erano organizzati in maniera verticistica dove il primo sodalizio, quello più importante, aveva anche a capo un esponente della Camorra, riuscivano anche a reinvestire i proventi del traffico di sostanze stupefacenti in altre quote societarie, altre società dove poi riuscivano a vendere i prodotti che producevano ad un prezzo nettamente inferiore di tutti gli altri. Quindi avevano anche il monopolio del mercato, quindi riciclavano i soldi e vendevano anche ad un prezzo inferiore, quindi doppio guadagno. Sfruttavano l'intimidazione del metodo mafioso perché avevano anche la disponibilità di armi, quindi non era solo un traffio di droga o uno spaccio di droga, ma era anche intimidire per poi compiere anche estorsioni e impadronirsi totalmente del territorio. Quindi l'importanza dell'operazione non è solamente aver proceduto a eseguire 39 misure cautelari e a sequestrare oltre un milione di beni tra immobili, beni mobili quali autovetture e anche quasi 300 mila euro in contanti, ma è quello di aver frenato o meglio sradicato un tentativo di infiltrazione che avrebbe potuto creare un monopolio anche nella gestione del traffico di droga e nelle estorsioni in questo territorio. Operavano da un bel periodo, noi le indagini sono durate diversi mesi, quasi due anni e loro erano appena, diciamo, avevano iniziato con un'organizzazione locale, poi piano piano si erano estesi facendo arrivare anche notevole droga dalla Campania dove era questo camorrista il referente principale. Credo che con questa operazione, perché è imponente questa operazione, noi manteremo la guardia alta, il controllo aumenterà ancora di più per evitare che i vuoti lasciati da queste organizzazioni vengano colmati da altri.